Molto del mito di Artemisia Gentileschi si è nutrito di questo libro, Artemisia, pubblicato da Anna Banti nel 1947, dopo che una prima versione era andata distrutta, sepolta, durante i bombardamenti di Firenze del 1944. Scrittrice raffinatissima, studiosa di carte e quadri, moglie peraltro di uno dei padri della storia dell'arte italiana, Roberto Longhi, Anna Banti si era messa sulle tracce di Artemisia partendo dalla ricerca della tomba del padre, a Londra. Nella capitale inglese, Orazio si era trasferito nel 1626, al seguito del duca di Puckingham e della figlia di Maria de' Medici, Enrichetta Maria, che andava in sposa al re Carlo I. La sua vita a corte, però, non fu sempre felice. A Londra Artemisia arrivava tra agosto e settembre del 1639, pochi mesi prima che il padre morisse. I rapporti tra i due non erano stati semplici, ed erano anzi passati quasi venti anni da quando una lite furibonda li aveva separati. In quegli anni Artemisia era cresciuta da sola. A Roma, dove il suo talento e l'amicizia con artisti del calibro di Simon Bouet, che le dedica questo splendido ritratto, le avevano aperto committenze importanti. A Venezia e soprattutto a Napoli, dal 1630 sua città elettiva, dove l'amicizia e la consonanza con Massimo Stanzione ammorbidiscono i passaggi tonali del suo carabaggismo, regalando opere di una squisita compiutezza come la superba Clio di Palazzo Blu. Poco si sa del breve soggiorno londinese di Artemisia, che vi arrivò acclamata e matura. Alcune risposte arriveranno dalla mostra che si sta per aprire a Londra, la prima dedicata alla pittrice, e che ospiterà anche le due opere di Palazzo Blu, che potrete quindi vedere qui per pochi giorni ancora. La nebulosità di informazioni è la stessa che colpì l'immaginazione di Anna Banti. Nel confronto tra il padre morente e la figlia pittrice troviamo alcune delle pagine più toccanti. E dopo il necessario silenzio furono scambiate le parole libere e efficaci dell'arte, e una incantata parità di espressione si stabilì, che oltrepassava la contingenza di età, di sesso, di parentela. Due spiriti, non un uomo e una donna, non un padre e una figlia. E la figlia, affrancata dall'ossequio, sciolta in un fervore di dimostrazione che la fa ardita, alza la fronte e gli occhi. Non importa essere stata donna, più volte sconsigliata, due volte tradita, non c'è più dubbi, un pittore ha avuto un nome. Artemisia Gentileschi. Grazie. 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 Grazie.